Quali saranno le prime azioni restrittive già da domani? Le azioni restrittive sono quelle, si può dire, classiche della zona rossa. Trabbia sarà un paese in cui verrà difficile sia uscire che entrare, se così possiamo dire, perché non ci si può spostare per motivi vari, ma lo si può fare soltanto per motivi di necessità, di salute e di lavoro. Si deve fare se si va in un altro comune con l'autogertificazione, ma gli spostamenti sono pure complessi e vietati all'interno del territorio stesso. Cioè la gente potrà uscire per capirci meglio per andare a fare la spesa, per problemi di salute, per andare a comprare le medicine, per andare a approvvigionarsi gli alimenti, per nutrirsi, ma non per altro. Quindi io invito tutti i cittadini a rispettare le regole perché abbiamo bisogno dopo il 6 aprile di ritornare a una vita più normalizzata, quindi più bravi saremo nel rispetto delle regole e in questa fase di zona rossa più imminente sarà l'uscita di un periodo così particolare dal punto di vista della pandemia. Poi abbiamo cercato di contrastare il virus, ci eravamo riusciti, addirittura nelle ultime settimane prima di questo ultimo innalzamento eravamo a numeri abbastanza abbordabili. Nell'ultima settimana scorsa un'impennata di 31 casi che ci fa superare l'indice che è l'indice di 250 casi sui 100.000 abitanti, quindi come rapporto noi superiamo questo indice. Cos'è dovuto? Io per quello che posso azzardare, per quello che ho potuto verificare in base ai provvedimenti che io posso leggere come autorità di sanità locale, ho capito che il virus si trasmette molto nei popolarità moettici, cioè negli incontri che avvengono all'interno delle abitazioni, che a volte è pure difficile controllare. E' pure vero che incontri fuori, all'esterno, nelle piazze, ma più che altro ho potuto notare che i controlli dovrebbero mirare a verificare ed evitare tutti quelli che sono le unioni avvenuti dentro le abitazioni e quindi le cene, i pranzi che si fanno all'interno delle abitazioni.